2-2 in casa del Monte di Procida, il Marcianese chiude il 2011 con un buon risultato, un punto meritato che conferma i progressi gialloverdi. Tanto studio da parte delle due squadre nelle battute iniziali. La prima azione degna di nota arriva al diciassettesimo con Paiuca che fa tremare il popolo gialloblu sfiorando il 7. 8 minuti Mautone in sacca sfruttando una ribattuta della retroguardia casertana e piazzando in rete la sfera da pochi passi. Il Monte di Procida continua a spingere poco prima del riposo, Di Matteo tenta il raddoppio di testa ma la mira non è precisa. La ripresa sembra iniziare in discesa per i ragazzi di mister Ambrosino. Prima Mautone in discesa verso la porta si fa stregare da Ciontoli che salva i suoi respingendo la conclusione in corner. Poi sugli sviluppi nulla può sul tiro di Capellino che angola bene e firma il raddoppio. Sembra fatta ma il Marcianì si accorcia al ventisettesimo con Grillo lesto a concretizzare una splendida azione tutta di prima dei gialloverdi. Cinque minuti più tardi arriva il pari. Massa a terra in aria Grillo e per il direttore di gara ci sono gli estremi per il penalty. Alla battuta si presenta Prisco che non sbaglia. Due a due è tutto da rifare. Gli ultimi assalti a nulla servono al monte di Procida che è costretto alla fine ad accontentarsi del pari. Un risultato buono per il morale, per la classifica e benagurante per Sorianiello e i suoi.